Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Oggi dopo un po' di tempo siamo tornati su Eurotrack Simulator 2 In multiplayer insieme a Kevin99 e Marco Ciao Ok Allora Noi siamo qua con il nostro Mercedes con la skin qua di un DLC Che si chiama Force of Nature mi sembra se non ricordo male Noi portiamo un escavatore da 24 tonnellate mentre Kevin porta una trivella da Quanto pesa? 4 tonnellate E Marco porta? Batterie esauste 16 tonnellate Ok ottimo Quindi io ho il carico più pesante Bello Direi che possiamo partire Vadi prima lei Anzi prima di partire Precisiamo Il viaggio è lungo Ho già 3% di danno Dettagli Andiamo fino a Dresden Dresden che bella cosa Andiamo in Germania Siamo tedeschi Tedeschi Kevin ma li diamo da io Allora Partiamo Che fatica che fa Kevin quando non risponde è la persona più simpatica del mondo Ragazzi c'è tempo Sentite il temporale ragazzi Prima c'era da Marco poi è arrivata da me adesso è arrivata da lui Dai facciamo i bravi e rispettiamo i semafori Per una volta Kevin cazzo metti la retro E però basta che si muove sto semaforo Anche i cani si mettono adesso è bella paura Devo star mutire ma non mi viene Che brutta roba Se ti sentite i cani No io non li sento Ok verde Partiamo Eh dai però tutti i rossi sti semafori No eh Che c***o Inculata Kevin 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 alla prima occasione ti ribalto Ma hai fatto Per fortuna niente al rimorchio Per fortuna Minchia delare è già bannato Di un per cento Vedrai Kevin Appena posso ti ribalto Non so ti metti in chiodare Non frena niente al volto Kevin c'è il semaforo rosso L'avrai visto il semaforo rosso Non ha frenato il camion È sempre il colpo del camion È quello che guida È quello che guida Che non ha frenato Ma non è umano Ma stiamo rispettando i limiti di velocità O andiamo a fronte sega No andiamo Andiamo Rispettiamo solo i semafori Ah ok Io sto accelerando a manetta Ma il camion non vuole andare Chi è marcio sei? Undici Puttana io sono in decine Ho cambiato adesso dalla nora Eh sai il cambio automatico Fa quello che vuole Ah c'hai il cambio automatico? Sì in multi mi trovo male Con il sequenziale Cristo dio madonna Kevin Ti coperei cazzo È dietro le distanze di sicurezza Sai Sì senza sicurezza Cazzo veramente Oggi mi sa che devo cliccare Io caro No l'unica L'unica cosa qua Bisogna stare almeno a 500 metri da Kevin Perché sennò disfattuto Sì appunto Almeno a 500 metri da Kevin Non mi avvicinate che frenate Mi avvicinate quando sono già ad occhio Guarda che ho frenato Eh sì Però anche te puoi stare attento però Kevin Ho frenato io Solo che per mai ho chiesto Allora non hai frenato Ma io pensavo di aver frenato Ecco c'è già un casello Eh puttana ladra A me fanno incazzare i caselli Come è possibile Che ho 16 tonnellare Se è quello che va meno di tutti Dio Cristo Ragazzi Mi aspettate No Ma in teoria dovreste stare davanti voi Visto che scaricate prima voi Loro scaricano a Stuttgart ragazzi E poi ci seguono col camion Così o prenderanno un carico Se ce l'hanno per dove vado io Quindi dai passate 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 Dio Cristo Il Darth non va un cazzo Non va un cazzo Kevin passa e non venirmi addosso Eh che porseo Che sei Aspetta me ne scappo un altro Proprio so che mi trattengo Se ti riesco Beh non sto a fare il porco Eh In una parte è trattenuta Poi l'altra mi è scoppata Eh Ragazzi Adesso lo sapete Perché lo chiamiamo porseo Dai muoviti a passare Marco Eh Dio Cristo Sto da front Non va un cazzo Se tenevo la scania Il Volvo Ah sei te che hai preso il Duff Sì Cazzo fai così Se stavo superando Mi ero già parecchia Incappettato Maria Vergine Cosa mi tagli la strada Ah adesso devo ribaltare tutte e due Ragazzi basta Qua è finito il viaggio serio Basta Tanto non ci prenderai Tanto non ci prenderai Ah io sono capace di sganciare il rimorchio eh E seguirvi Il testo di cazzo Dove siete? Io ti stavo raggiungendo Cami Sono a 130 ha sparato 35 Puttana troia la barca Che paura Pensavo che c'era il Ponte Moricchi si alzava e facevo un volo della Madonna Oh ma la tredicesima marcia non c'era Non manca al stile Ragazzi adesso parlo sul cibi Così mi ammazzerò Bella raga Salutate Manu Mi avete sentito Purtroppo si Eccomi qua Kevin Stiamo lontani Stiamo lontani da loro Sei lontano da Kevin che No io sto lontano da tutte e due Perché mi fate danni se no Continua a sbandare Non riesce ad andare in una cortina sola Tipo va un po' in mezzo Un po' di qua Marco Marco È ubriaco Madonna si è ubriaco Voglio nemmo schiacciare l'acceleratore Cosa Cosa vuoi a 30 all'ora? E tu le dite No dai ho capito cosa sto facendo Madonna ladra Che spavento Allora andate piano Non so io C'è davanti Stessa di uccello che Kevin non rispondi Kevin Secondo me si sta picchiando con sua sorella Si sono Allora Ragazzi quando Kevin non risponde Sono due le cose O si sta picchiando con sua sorella O si sta fumando cannone Ah io lo diciamo così Non chiedete mai a Manu Alla fine è Manu quello Certo Io per il testo fumo Chesterfield Rosse E ragazzi Ora sponsorizzo Da Chesterfield Ragazzi non fumate Vogliamo i soldi però eh Non fumate Vedete che i soldi No ragazzi Ragazzi non fumate Per sennò diventate come Kevin Non è un brutto esempio Avete qua l'esempio? No ragazzi Fatti gli scherti Fumare non vi conviene E te che cazzo lo fai fare? No Guarda che veramente Io lo dico anche in registrazione Lo dico anche a tutti Ma Prova Prova A fumare E guarda quanto spendi ogni mese Per sigarette Ecco Capito Ma a me non mi interessa Allora lo dici Perché non lo fai? Cioè E soprattutto Perché lui è un fattone E non lo fa Soprattutto il cannone Ragazzi Ecco E ci spende Molto Io non lo spendo Ma lì Costa tanto Ah perché te Te sei un esperto In questo campo No Diciamo che io Se non vorrei Che come dico una roba Mi vengono Mi bussa Come vedo questo video I carabinieri Bussano la porta Io Conosco Dei amici Che Proprio Mi hanno detto Maledetta volta Che l'ho saggiata Ma non mi sa Che ha fumato Prima di me Mi sa Ma guarda che Ti ho smesso Smesso Ragazzi mi sta venendo il vomito Guarda davanti Ciò che mi Continua a sbandare Questo cavolo Di temporale Non ha Rifrescato niente Io l'ho detto Che lo facevo 33% di danno Mi sono fatto 5 al rimorchio Mi hai fatto Questa è la mia vendetta Per prima Cazzo Vediamo Io al rimorchio Ho 7 Kevin Quanto Allora 70% al canno 11% al rimorchio Quanto? 11% al rimorchio Scatti Non ho detto niente Io Non mi lascia mettere Ragazzi Mettete un dislike No Mettete un dislike E il video di Marco Canto ci vengono già Eh appunto Qualcuno in più Non fa male Non mi lascia mettere Ok 10 ma manetta Ci devo andare Adesso Allora Senti allora Non prendere via me Però Io non faccio Niente di andare Contromano Ragazzi Siamo quasi arrivati A Stuttgart Sì Quindi giriamo di qua Così li accompagniamo Poi ripartiamo E andiamo Per la strada giusta Allora Loro sono andati A riparare Il camion Intanto Che è A Kevin era morto Il camion Sento l'eco Da qualcuno Devi sempre seguire Ausfahrt qua Sì Comunque io Sento l'eco Da qualcuno Ah io le pupie Io Boh Non so chi sia Io le pupie Non siamo ancora impossibili Prendi un paletto No che poi Giova Si arrabbia Un zappo di rubio Quattro chilometri Ragazzi Io ho preso dentro qualcosa Che non so cosa Sarà il guardrail Un chilometro Dai così Ne approfitto Mi fermo All'officina Riparo quei due danni Che ho Dove Io scarico Mi sa che Kevin Mi sa che Quello la Che ti ha tagliato Ti ha chiuso Mi sa che Quello la Che ti ha chiuso Ti ha preso nel rimorchio Quando Ti ha preso nel rimorchio Perché ragazzi Qua siamo in Europa 3 Quindi È il server Dove ci sono i casinisti C'è uno Che Ha chiuso Kevin E Praticamente Ha centrato il rimorchio Di Kevin Abbiamo preso il camion Eh Quindi Qualche casinista Ci deve sempre essere Eh Marco ha scritto Stiamo registrando Eh Pure io l'ho scritto Però Anzi Certi lo fanno apposta Perché vedono Che stiamo registrando Lo fanno apposta Per dar fastidio Ma alla fine Che tu fai vedere Il tipo di Aerotrack Lo panno Eh Sto volendo Sì Solo che Nel video Bisogna Che si vede bene Chi è Bisogna vedere bene Il nome Aspetta Vediamo 7,6 Di danneggiamento Figa 7000 euro In meno Allora A me Non mi darà niente Sticcolato Sto è Penalità di danneggio Allora Dovevo guadagnare 13000 Ma Penalità di danneggio 37000 LOL E si sente l'eco Cosa suare? Manu Eh Cioè Kevin Metti la mappa O seguiamo Manu Io seguo Manu Allora Andiamo Aspettate ragazzi Che credo posso un camion Ma che vorrei Esco da Io Ho Nel centro Dovevo andare via Non so che ora sia Sono le 17.02 Di martedì 12 luglio No Che io Io adesso Sono andata via Allora Le 10 Madonna Oh ragazzi Eh No Ci lasci Che vino Lo so che ti mancano No 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 Ciao 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 Kevin Buono Allora ce ne andiamo senza che vino Siamo arrivati noi Che brutta cosa Marco Sai che faccio in tempo a inchiodare Si sto registrando Facciamo la replica di prima No Grazie Andiamo di qua Ti richiedi quelle botte Ah che te prima tiravi di quei lagoni Quando stavi superando Kevin Eh perché Devo chiudere una pagina Che ho perso Ah Ecco Stavo caricando un video Si si Del T6 No Si si Non rollo E non rollo Fai lo sbagliato Guardalo Guardalo che sta lontano Guarda Qua c'è da andare a destra Eh si Ci sono due corsie però Tenei una Ah a destra Ho capito a sinistra Per me a destra Come Kevin Dici vai a destra Lui va a sinistra Come ando a sinistra Ho anche sparato Stavo Molto bene allora Madosca Ok ragazzi Ci mancano 86 km Per arrivare Ci siamo appena fermati a far gasolio Perché io ero in riserva E basta Non abbiamo più fatto danni Mi sembra No A parte Lagoni vari Che si rischiava di far macello Come sempre Devo di macellarsi Diretto Adesso Questo qua mi preoccupa Questo qua Sì Questo è un bel asfalto qua Sì Colore Colore pelle Colore Boh Maria Verge Si si vede La tua Il tuo nome Che è l'H Che è l'ha Perché è il tuo Ah boh io non lo vedo Eh Vedete il tuo Resta indietro di 100 mesi Tu Sì Guarda che il guardrail C'è sempre stato Comunque Insomma Lo sto facendo tutto Credo che non c'è un po' di polvere Sai com'è Ah Destra E mica si rallenta Ma va Ha tutto gas Non si molla Un caspitellino Buon siamo arrivati 25 chilometri Vabbè Vabbè Allora Noi ci scateniamo Noi mi Tumano sai come Ah sì Vedrete ragazzi Vedete prima questo Quello però Penso che vedranno prima quell'altro Ah 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 Di qua Minchia Ho preso il guardrail Insomma Se sono però Lol Però lo stavo montando Eh Sei forseo No 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 Non c'è che Mi tocca stare attento a parlare Mi devo parlare I miei bambini dell'asilo qua Ma no Eccoci qua Perché non parte la radio Ah ok Partito Ok siamo entrati nella città Aspetta adesso Dovrò prendere anche il garage Vabbè Eh io Su questo profilo Non ho i soldi Sei un po' veraccio Tasi che nell'altro Bo 15 miliardi Tipo Madoka Manu Hai girato un altro lag Ti sto venendo addosso Eh boh Vabbè Qua dobbiamo entrare Sono arrivato leggermente lungo Ecco lì dove parcheggiamo Vediamo se ce la faccio parcheggiare da dentro Ma non penso proprio Sì Già partiamo male Adesso vengo a vedere cosa stai facendo Meglio che non vieni a vedere Meglio che non vieni Che puro sei andato Non ce la faccio da dentro Che puro sei io In realtà no Sono andato cosa di signore Eh Ecco qua Ah qua si da Non parla più signor Sufficiente Ci è andato 27 mila Dei 43 mila Che doveva andarci Sì Facevamo quell'altro Stutto Marco 15 mila di danno Basta Basta Va bene Va bene ragazzi No questo lo devo dire io Io vi saluto Guarda che ti ribalto eh Ti ribalto Le mie sono più potenti E basta 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 Hai finito Ok Allora Niente ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Mettete un bel like Commentate Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Vi saluta Il porseo Qua col camion arancione E basta Ciao a tutti ragazzi